Un weekend primaverile sul lago di Como. Dopo il boom di qualche anno fa, trainato da George Clooney, siamo ancora sulla cresta dell'onda o la moda è passata? Non è passata assolutamente perché le radici del lago di Como, anzi della regione dei laghi, che è la regione insubrica, è storicamente dal 1900 meta turistica. Certo, Clooney ha dato molta notorietà e il lago di Como ha dato molta notorietà a Clooney. Prima di lui c'erano grosse, grosse personalità. I re e le regine, Villa Teste, era meta di un turismo d'elite. Come si prospetta la stagione turistica tra Ponti di Primavera e Pasquale? Veniamo da un boom, da un boom 2017. Le provisioni sono buone, c'è stato un mese di marzo per la tanta neve in montagna che ha portato un po' a rilento il settore leisure. Per Pasqua ci sono già comunque delle ottime prospettive. Lago di Como non è soltanto turismo leisure, ma è anche un turismo business. Tutta quest'area insubrica, che tipo di clientela ha? Mittele Europea, vuol dire Germania, Francia, Gran Bretagna, specialmente la parte alta del lago di Como, il centro lago, la Tremezzina, è storicamente meta di clientela inglese. Villa Teste poi significa clientela americana. Chiantela è anche business. Chiantela è anche business grazie a Villa Erba, che è il centro esposizione e congressi. Grazie anche alla facilità con cui si raggiunge Como. Cosa significa fare il direttore d'albergo, vista la sua lunga esperienza in questo territorio? Non solo avere esperienza all'estero, creare rapporti, creare comunicazione con il territorio è fondamentale. L'albergo è quell'azienda che dà lavoro non soltanto a chi lavora in albergo, ma ci lavorano tutti attorno. I baghi poi sul lago di Como sono tutti un po' antichi e quindi hanno bisogno di grandi ristrutturazioni. Stanno arrivando le catene alberghiere. È arrivata la Sheraton tre anni fa, nel 2018 ha aperto Lilton e sembra che anche il Four Seasons sia interessato. Le catene hanno capito che c'è business, che c'è business, che è rinomato e più strutture ci sono e più turisti arrivano. Grazie a tutti.